Amici di Vini del Vino, ciao, siamo ancora qui insieme con Cristian a degustare degli ottimi vini per voi. Oggi Fosmarai, azienda storica del Prosecco e il vino è il Marai de Marai, una vendemmia 2012 come vediamo in etichetta, chiaramente la regione del Veneto, 11 gradi per questo extra dry, molto molto fresco, andiamo a vedere come si presenta il bicchiere Cri? Assolutamente, direi che è un bel colore giallo merdolino con una bolla fine e abbastanza direi proprio persistente, abbastanza persistente, con assistenza leggera e liquido. Un bicchiere bello fresco, direi che l'intenso è d'obbligo per un vino del genere, tra i classici profumi del Prosecco che ha profumi di mela verde, qualche fiore, un biancospino, profumi fresco, molto molto molto. Beh direi un vino di equilibrio, un vino che è secco, secco e amaro, comunque leggero, piacevole, considerate gli 11 gradi, fresco, buona la resistenza, rimane tanto in bocca. Vino estivo, visto che siamo nel mese di agosto, infatti direi di servirlo a Piaccio, 6-8 gradi, una bella pool, una bella vista sul mare, ci facciamo l'aperitivo con questo vino. Oh, fantastico. Dai, dammi qualche dritto. Allora, non so cosa direi di aperitivo da tenere qui con questo Prosecco. Non so cosa direi Mare Mazzola, ma noi buttiamo lì una bella burrata pugliese su un letto con qualche foglia di basilico. Wow, che meraviglia. Stupendo. Bene. Allora, amici, ricordate di andare su madeinvino.com e metteteci alla prova con l'acquisto di un paio di bottiglie mensili. Cliccate. Cliccate. Ciao. Ciao. Ciao.